Terra di nessuno qui al confine con Guidonia Montecelio come vedete discarica ovunque, di sotto al ponte, è roba da non credere, guardate è incredibile ecco qua, non vogliamo disturbare più di tanto ecco, guardate, guardate siamo sotto al ponte praticamente, sotto al ponte della, ecco qua come possiamo dire, del centro agroalimentare, ecco, siamo a Guidonia qui è già Roma, questo dovrebbe essere Roma, questo è il confine, ecco e quindi